Fausto Orso Marzo, Vandaferro sarebbe un ottimo governatore della Calabria? Lo dice anche Salvini, eh? Sì, ma noi per serietà, come diceva bene anche Raffaele Fitto, abbiamo prima gli europei. No, abbiamo prima gli europei, c'è il primo dato che è come interpretare questa Europa. Non a caso nasce questa federazione, noi siamo diventati il primo gruppo consigliare di minoranza sulla base di una visione anche di Europa dove bisogna stare perché è garantito anni di pace, di prospettiva ma starci in un modo diverso. Siamo interessati a rafforzare questo progetto politico, sono in campo, Giorgio Meloni come candidato, Raffaele Fitto avremo anche i candidati calabresi. Vada sai che subito dopo c'è la discute di Calabria e crediamo che responsabilmente il centro-destra, il centro-destra futuro che sarà, non può andare diviso. Devi stare unito e devi stare unito avendo anche, io parlo per me, io ho due consigliature diciamo, quanto Di Maio a proposito, sono uno di quelli che non si ricandida tra l'altro provando a dare l'esempio e sto lavorando a fare liste. E questo lo vedremo dopo. A dare un contributo diverso, no ma il principio quale sta? Se tu hai comunito dell'esperienza anche di cose che non hanno funzionato, anche in parte del centro-destra e del centro-sinistra, l'esperienza è provare a dare alla Calabria una stagione di serenità e magari un governo di dieci anni che significa che non possiamo avere più uomini o donne, insomma, solo al comando, ma ci deve essere una definizione complessiva. Cioè tu devi portare l'intera popolazione calabrese su un sussulto a dire su questa via ci giochiamo una partita, che è di dignità, di difficoltà a queste latitudine perché ogni giorno tu hai davvero una difficoltà nel fare amministrazione. Lo Stato è bloccato in Calabria per tante ragioni, perché poi c'è i tarri, i consigli di Stato e poi le proglie della Repubblica. Bisogna offrirle una stagione di serenità, questa stagione, questa terra la merita e noi come parte politica alternativa alla sinistra dobbiamo provare a dare la migliore, con il caposquadra migliore ed è ovvio ci saranno i luoghi opportuni per deciderlo, per stare uniti, per cui sarà di Forza Italia contentissimi di sostenere il candidato di Forza Italia. Stessa cosa vale per la Lega, pari dignità vale anche per noi, soprattutto che siamo quelli che stanno crescendo da questo punto di vista. Intanto, visto che mi conosce, la domanda non gliela posso non fare. Mario Chiuto si è buttato in avanti, insomma Forza Italia un po' sta facendo campagna elettorale come Mario Chiuto, governatore, insomma. Che dire su questa cosa? Ma lì, nessuno può criticare l'iniziativa di fare un partito politico, giustamente se nell'ambito di Forza Italia hanno individuato la candidatura migliore, in questo caso Mario Chiuto, giustamente loro la sostengono, la portano avanti, l'enfatizzano come noi da parte nostra, insomma, siamo alla vigilia, ribadisco, non solo le regionali, c'è un proporzionale puro che riguarda le europee e se ci sono tre forze, rappresentano il centro destra, delle sottile differenze sul piano politico ci sono, insomma, per cui ciascuno le rivendica. Io credo che, ribadisco, bisogna lavorare sempre per unire, non solo il piano politico che è alternativo a quello che è accaduto in Italia con la sinistra e quello che sta accadendo anche con il governo gialloverde che mi pare, soprattutto rispetto al mezzogiorno, accumeremo altri ritardi, al di là di alcune intuizioni, pure positive ci sono. E poi noi, anche al di là dei colori, conosce da calabresi quali sono stati i limiti e i vizi di questa regione, di tutte le parti, del centro, dalla destra, dalla sinistra, e provare a non fare più quegli stessi errori. Questo per me, insomma, penso di dare i prossimi 5-10 anni e poi da andare via, perché bisogna passare il testimone, anche questo è un fatto importante, vorrei farlo con il sangue agli occhi, con una squadra adeguata e soprattutto, non dicendo quello che abbiamo sentito spesso nelle campagne elettorali, che poi non è sostenibile, non è percorribile, sulla sanità che è la madre di tutte le battaglie, abbiamo sentito tanto populismo che significa tante bugie e noi invece sappiamo che va riformato occupandosene e se le pensa ai nuovi ospedali finanziati dal 2006, io facci una provocazione chiedendo appunto l'intervento del genere militare che sono stati progettati, appaltati e per varie vicende che non interessano, forse neanche non è manco colpa d'Oliverio, voglio dire, ad oggi, non partono perché non c'è una pietra è un problema, dobbiamo porci come è stato, se l'azienda che ha vinto è in fallimento è una cosa che non se ne può più e parliamo in termini proprio di protezione civile, sono le opere strategiche sul tema principale, su cui stanno il 70% delle risorse, che non può restare lettera morta, è un appello a cui bisogna dare una soluzione, quindi ci toccherà fare un grande lavoro. Grazie.